Sono 6 su un totale di 76 comuni della provincia di Salerno che per le loro politiche di sostenibilità ambientale e per i loro progetti accedono di diritto alla fase finale del concorso Premio Comuni Virtuosi 2019, promosso ogni anno dall'Associazione Comuni Virtuosi, allo scopo di sensibilizzare verso l'adozione di progetti ed azioni finalizzate ad un maggiore rispetto dell'ambiente. Erano 300 i progetti tra cui scegliere per l'accesso alla fase finale provenienti da ogni parte d'Italia e tra i 76 selezionati compaiono anche 6 progetti della provincia di Salerno che accedono così alla fase finale della tredicesima edizione del Premio in programma nel mese di dicembre. Tra i 6 comuni molto presenti è il sud di Salerno con ben 4 comuni di cui 2 del Vallo di Diano e Tanagro. Il 14 dicembre arriveranno a Crema per le premiazioni dei comuni vincitori anche i referenti del comune di Montesano sulla Marcellana e Auletta, i cui progetti, dopo attenta valutazione dei selezionatori, sono risultati tra i 76 più interessanti. Insieme ai referenti dei comuni guidati da Giuseppe Rinaldi e Pietro Pessolano, saranno a Crema anche i rappresentanti dei comuni di Morigerati e di Monte Corice, sempre per la parte più a sud della provincia di Salerno. Gli altri due comuni salernitani che accedono alla fase finale sono Ponte Cagnano-Faiano e Bellizzi. Un importante riconoscimento che evidenzia come le amministrazioni di riferimento mostrino grande attenzione al tema della tutela e della sostenibilità ambientale. Oltre a premiare il progetto vincitore durante la cerimonia, saranno anche consegnati attestati di merito alle amministrazioni che si sono distinte nelle politiche di mobilità sostenibile. Una iniziativa importante che cammina di pari passo con l'impegno dell'Associazione Comuni Virtuosi, costituita da enti locali particolarmente sensibili ai temi ambientali e che sin dal 2005 è impegnata a diffondere nuove consapevolezze e nuovi stili di vita in materia di sostenibilità ambientale. In tal senso si cerca anche di proporre e ideare progetti economicamente vantaggiosi nella gestione del territorio attraverso anche il risparmio energetico. Grazie Grazie Grazie